Ciao a tutti ragazzi, sono l'interista Rosanero e appena finita Palermo-Lecce 2-1 si torna a vincere, si torna a meno 2 dal Brescia, meno 2 che però potrebbe essere un nostro vantaggio visto che noi già abbiamo riposato per il girone di ritorno e il Brescia deve riposare, quindi il Brescia ha una partita in più. Il Brescia ha perso a sorpresa dentro casa col Cittadella per 1-0 e il Palermo vince contro il Lecce in casa. Una partita che si mette subito bene con il gol di Traikoski, bellissimo il gol di Traikoski, veramente bello. Dopo l'1-0 c'è la prima parata importante di Brignoli, Brignoli sempre una sicurezza, sempre una certezza. Diciamo che la partita scorsa la mancanza di Brignoli è stata pesante perché Pomini non è assolutamente all'altezza, non me ne voglia, a me dispiace, però non è da Palermo Pomini. Già sa che siede in panchina. Dopo l'1-0 e la prima parata di Brignoli, Puskas si è mangiato un gol in un contropiede allucinante, tirando a fin di palo e uscendo il pallone di poco. Il Palermo oggi non ha avuto tantissime occasioni, ma quelle che ha avuto sono state veramente incisive e pericolosissime, tipo quella di Puskas sull'1-0 che già li poteva metterla sul 2-0. Ha fatto molti più tiri in porta il Lecce, anche è vero che il Lecce tirava un po' dovunque, quindi la porta la trovava perché tirava veramente dovunque. Occasioni pericolose ne ha fatte, ne ha avute. Una è stata allucinante con una parata di Brignoli che veramente l'ha bisogno a ringraziarlo più del solito perché ci ha salvato il risultato. E poi una bellissima triangolazione, ha portato al gol del 2-0 con Puskas. Puskas che io lo voglio più incisivo, più cattivo sottoporta, invece a volte sbaglia in maniera banale. Stavolta non è stato così, stavolta ha fatto un bel gol, venuto da una bellissima triangolazione, da bellissimi scambi di gioco, fino a che lui non è arrivato davanti al portiere, ha tirato bene e ha fatto il 2-0. Al 92, dopo il gol di Brignoli, diciamo che un po' di paura c'è stata perché al 92 su calcio di punizione ha segnato il Lecce. Diciamo che lì c'è una distrazione della difesa perché quando tu marchi in questa maniera ti devi sempre assicurare che tutti i giocatori del Lecce abbiano la propria marcatura. Non è stato così, il giocatore era completamente solo, ha avuto modo di tirare a volo sul calcio di punizione che gli ha dato, passato direttamente, crossato dal compagno, è 2-1 al 92esimo. Abbiamo poi tenuto palla, fallo laterale, stavamo nella loro aria fino a quando non è finita la partita e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per andare in Serie A. Perché ricordiamoci sempre che dobbiamo credere nella Serie A, dobbiamo credere nel primo o nel secondo posto. Il Palermo deve fare di tutto per salire primo o secondo. E oggi abbiamo messo un bel mattoncino importante per questo scopo. Aspettiamo la partita in cui riposerà il Brescia e vediamo di approfittarne perché, ripeto, è come se noi già abbiamo fatto il pit stop, ora aspettiamo quello loro e vediamo che se vinciamo il recupero, se vinciamo la partita quando loro riposeranno, da meno due ovviamente andremo a più, e adesso dobbiamo cominciare a macinare sempre più punti. Quindi scusate se ogni tanto mi impappino, ma è tanta la gioia perché ci voleva troppo questa vittoria, ci voleva come il pane. Quindi ragazzi, su Palermo-Lecce io non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale dell'Interistero Sanero e noi ci vediamo al prossimo post partita. Nel bene e nel male, sempre Forza Palermo!